Il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione dal titolo Comunicazioni strategiche dell'Unione europea come contromisure alla propaganda di parti terze. La risoluzione indica i media russi come pericolo per la sovranità dei paesi europei e li equipara allo Stato islamico. La prima firmataria è la deputata Anna Fotega, ex ministro degli esteri della Polonia. Le principali minacce informative all'Unione europea e dei suoi partner nell'Europa orientale sarebbero l'agenzia di stampa Sputnik e l'emittente televisiva Russia Today. Per il presidente della Federazione russa Vladimir Putin siamo di fronte ad un ulteriore ed evidente scadimento della democrazia nella società occidentale. Si registra il voto favorevole di 304 deputati, contrari 179 e astenuti 208 deputati. Da segnalare per l'Italia il voto contrario del Movimento 5 Stelle, dell'altra Europa per Tsipras e della Lega Nord. Il numero dei contrari e degli astenuti dunque ha superato largamente quello dei favorevoli. Nonostante la risoluzione costituisca a modo suo una specie di record del delirio russofobico ormai dilagante in alcuni circoli dirigenti dell'Occidente. Sembra chiaro che molti deputati restano in attesa di capire dove tira il vento. In particolare il vento di Washington, dopo l'elezione inattesa e sorprendente di Donald Trump. L'Iran reagirà sicuramente nel caso di un'estensione alle sanzioni degli Stati Uniti per 10 anni. Questo è il monito lanciato oggi dalla Guida Suprema della Rivoluzione Islamica Iraniana all'Ayatollah Ali Khomeini. Un eventuale passo di Washington in questa direzione sarebbe una violazione dell'accordo nucleare siglato nel luglio del 2015. Nel frattempo Teheran annuncia attraverso l'ammiraglio Abib Ollassayari e comandante della Marina Iraniana di avere raggiunto l'autonomia militare in mare, non necessitando più dell'appoggio di altri paesi per la fornitura di armi, munizioni ed attrezzature. La Marina Iraniana sta ora monitorando da vicino il movimento di stranieri nel Golfo Persico e nel mare di Oman, mentre staziona permanentemente nello strategico Golfo di Aden che non lascerà, sottolinea l'ammiraglio, fino alla creazione di una sicurezza duratura. Se i rei daerei dovessero continuare a questo ritmo, Aleppo Est sarà completamente distrutta entronatale. Nonostante l'ammonimento dell'inviato speciale dell'ONU per la Siria, Staffan de Mistura, Damasco ha bombardato Aleppo Est con migliaia di lettere. Martedì, l'aviazione siriana ha lanciato sui quartieri occupati 6.000 lettere di bambini, in cui descrivono la quotidianità nelle zone di guerra e chiedono ai terroristi di interrompere le ostilità. Finora, tutti i tentativi di Mosche Damasco per l'evacuazione dei civili da Aleppo Est si sono scontrati con la resistenza dei terroristi. Da parte sua, il governo siriano si adopera per garantire ai civili una vita normale nei territori su cui mantiene il controllo. Per esempio, la scorsa settimana alla Takia si è svolta una nuova edizione della Settimana della Moda, un evento organizzato dal Consiglio giovanile siriano e dal Ministero del Turismo. Donald Trump ha dichiarato che Nigel Farage, leader del UK, potrebbe svolgere un ottimo lavoro come ambasciatore negli Stati Uniti. Non è mai successo che un presidente americano incipiente chiedesse ad un altro leader mondiale di nominare ambasciatore un leader dell'opposizione e ciò mette Theresa May in grande difficoltà. La domanda per la prima ministra britannica ora è, potrebbe davvero il leader del UKIP essere di qualche aiuto nel comunicare efficacemente con l'amministrazione Trump? Alcuni suoi ministri l'hanno criticata per non aver preso posizioni chiare prima e dopo la vittoria di Trump, creando un vuoto che è stato riempito da Nigel Farage. La stampa però è divisa nel considerare le diverse strategie. Il temperamento esuberante di Farage per usare un eufemismo è risaputo, nonché la sua forte determinazione nel perseguire i propri scopi, tutte caratteristiche che lo potrebbero escludere in nome di una preferibile quieta diplomazia. Dall'altra parte però il neopresidente statunitense è a sua volta una personalità straabordante e l'amicizia personale fra i due potrebbe risultare strategicamente utile ai paesi che rappresentano. Intanto Downing Street commenta seccamente che un ambasciatore britannico in USA c'è già e sarà in carica fino al 2020. Farage o no, come avverte il Telegraph, per il governo May trattare con l'amministrazione Trump non sarà cosa facile. I due militari russi, Maxim Odinsov ed Aleksandr Baranov, arrestati dai servizi di sicurezza ucraini in Crimea al valico di frontiera Kongar sono ancora in stato di fermo in Ucraina. Il tribunale di Nikolaev ne ha convalidato l'arresto per due mesi con l'accusa di diserrezione in quanto ex soldati dell'esercito ucraino. Ma nonostante la Corte abbia stabilito la possibilità di rilascio su cauzione, l'SBU intende contestare tale decisione e ricorrere in appello. Per il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov si tratta di una provocazione illegale. Sarcastico quanto polemico il commento della Duma. Invece di implementare gli accordi di Minsk, Kiev si dà i rapimenti. Facebook sbarca nel mercato dei servizi finanziari. La banca centrale irlandese ha concesso le necessarie licenze all'azienda di Zuckerberg, che potrà operare all'interno di tutta l'area euro. All'inizio l'offerta di servizi probabilmente si limiterà alla possibilità di trasferire somme di denaro tra utenti, anche situati in azioni diverse, e all'acquisto di beni e servizi. Le possibilità di sviluppo, così come l'occasione di business, ovviamente cresceranno con il tempo, mano a mano che l'azienda di Palo Alto guadagnerà la fiducia dei suoi centinaia di milioni di utenti. Naturalmente questa svolta andrà a tutto discapito delle banche tradizionali, che si vedranno erodere quote di mercato e clientela, apparendo sempre più come vecchi dinosauri in via d'estinzione. Il lato preoccupante di questa importante novità è che l'azienda di Zuckerberg appare sempre di più come un grande fratello aureliano. Ha il nostro indirizzo, il nostro numero di telefono, conosce i nostri gusti, le nostre idee e la nostra rete di contatti personali. E tra un po' inizierà a maneggiare anche i nostri soldi. Una regolamentazione a tutela della privacy degli utenti appare sempre più indispensabile. Le temperature vicino al Polo Nord si stanno alzando pericolosamente. Secondo lo US Weather Channel, le boi di segnalazione hanno registrato martedì temperature fra lo 0 e gli 1,2 gradi centigradi. Nel mentre altre zone, come la Russia centrale, raggiungono temperature di meno 40 gradi. Il professor Peter Williams, a capo del Polar Ocean Physics Group dell'Università di Cambridge, conferma trattarsi del risultato anomalo dei venti d'alta quota che circolano attorno al globo e che condizionano fortemente il clima. Quando nel mar glaciale artico il ghiaccio si ritira, le correnti d'aria scaldano l'artico, spingendo l'aria fredda su altre zone. L'allarme è serio. Lo stesso scienziato prevede che l'artico sarà completamente privo di ghiacci entro pochi anni. Per altri ricercatori la previsione si sposta fra il 2030 e il 2050, ma l'allarme rimane. Per la prima volta in 100.000 anni l'artico potrebbe restare senza ghiaccio. Grazie.